andiamo in miniera ragazzi allora il sito diceva portatevi una giacchetta quindi mia moglie ha preso una camicia per lei giubbottino e felpa per mio figlio non ha preso niente per me perché tanto ci penserà Giovanni ci penserà ma io non ci ho pensato e mo ci posso sapere i prosciutti qua che fa un freddo bestia qua ragazzi cercavano i minerali già intorno a 400-500 anni fa c'è la spiegazione in inglese in giapponese in cinese in coreano qua la stanza dove utilizzavano per gli esplosivi per la dinamite arriva arriva inglese in inglese in inglese a eric ok i alla detonazione. Pronti, pronti? Everybody ready? 3, 2, 1, BOOM! Il mio collega sta trivellando con il martello pneumatico dell'epoca. Certo che l'hanno rifatto davvero bene. Questi tipi mettono un'ansia, mettono. Guardate dove è mia moglie e dove arriva tutto il tunnel. Questo è un tunnel che esisteva al periodo Showa e veniva utilizzato come, diciamo, turon di servizio, diciamo. Calcite, Galenite e Stolfal, non so come si dice, zingo, soffite, venivano raccolti qua, in questa miniere. Questi sono, guardate, dai tunnel che sono stati scavati per cercare di minerali, incredibili. e guardate le ragazze. Quattro, guardate, dai tunnel che sono stati scavati per cercare di come andavano gli ascensori e come venivano portate in superficie le pietre e tutto quanto nei materiali diciamo noi siamo qua ma il tunnel va giù per centinaia di metri in profondità interessante però la situazione in luce qua è interessante c'è un mio figlio, un braccio, una situazione in luce molto interessante scendiamo di un livello in poca parola e si va di qua Yuka dove sei? papà all'avventura in miniera papà una scala a chiocciola interessante papà dove andiamo? andiamo giù andiamo dove è mamma di dove è mamma? giù dove? dove è mamma? dove è mamma? giù da là vai andiamo papà in fondo a tutto c'è questa stanza, questa area qua era dedicata alla pausa e noi proseguiamo di là adesso andiamo dove è mamma? mamma giù bravo alla avventura papà questo è il tempio dentro la miniera ovviamente poi quando io ritornano in superficie c'è una marea di scale da fare l'acqua è vera, le infiltrazioni d'acqua sono reali non è musica messa con il cd siamo quasi arrivati all'uscita non è musica messa con il cd non è musica messa con il cd